Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video un po' diverso dal solito, sempre sapete a me piace mantenere lo stampo di informazione barra tutorial sul mio canale, quindi sempre un video di informazione ma stavolta non andiamo a toccare nessun aspetto legato al FIFA giocato vero e proprio. Infatti voglio andarvi a parlare di un tool che è stato rilasciato direttamente da EA in versione al momento comunque sperimentale per verificare quella che è la nostra connessione su FIFA. Vi dico già che è un tool che secondo me può avere dei lati positivi ma ovviamente anche dei lati negativi e non è attendibile al 100% ma comunque può essere un buon terreno per testare quella che è la vostra connessione. Quindi, rapido cambio di scena, lo sapete, e ci ritroviamo sulla pagina Twitter di quello che insomma è uno dei community manager di EA il quale ci dice Ciao a tutti! Sono molto eccitato e entusiasta di condividere con voi qualcosa sul quale abbiamo lavorato per parecchio tempo insieme a quello che è il team di EA help, ovvero lanciamo quello che è il public beta per il test sulla qualità della connessione che è disponibile a questo indirizzo. Prima di andare a farvi vedere come funziona questo tool, la spiegazione che ci viene fornita è la seguente, ovvero questo tool è stato designato per aiutare i giocatori a capire meglio la qualità della loro connessione Giocando a quelli che sono i match online di FIFA 21 ed è parte di quello che è il generale gameplay online e della sua responsività Per imparare su ciò vi raccomando di leggere quelle che sono le FAQ nelle quali ho spiegato in dettaglio le varie sezioni del tour Maggiori dettagli insomma verranno rilasciati nel prossimo futuro Andando su questo link ci si apre immediatamente quello che è il test della connessione Come potete vedere il mio punteggio è di 99 su 100 Quindi ringraziando a Dio in teoria dovrebbe essere una connessione pressoché impeccabile Anche se 21 e 64 di ping è abbastanza alto, il jitter è apposto e la perdita dei pacchetti anche Come viene calcolato però questo punteggio? E qui iniziano a venire quelli che sono secondo me i primi nodi al pettine Perché il tuo punteggio sul della connessione si va ad applicare a quelli che sono i match che tu hai giocato negli ultimi 7 giorni Quindi cosa succede? Mettete il caso voi andate a fare una partita contro un israeliano Quindi chiaramente è ovvio che la connessione non può essere buona Vista la distanza che c'è tra voi e il player israeliano Quella partita vi viene registrata come una partita cattiva Di conseguenza va a fare media all'interno di quelle che sono le partite giocate Tant'è vero che io avevo un match giocato contro un player spagnolo Che la prima volta che ho fatto il test mi aveva fatto apparire il punteggio 86 Io mi stavo già facendo le croci e ho detto ma come è possibile io ho una gigabit Che mi arriva effettiva 600 in down, 400 in up Come diamine è possibile che ho 86 meno di chi ha link e medeolo Fatto sta che poi quella partita mi è uscita dallo storico delle partite degli ultimi 7 giorni E il punteggio è andato a 99 Un altro strumento utile L'ho trovata in questo menu a sinistra ovvero Your Match History Che cosa vi permette di andare a vedere? Una statistica dettagliata su quelli che sono appunto i match Quindi vi dice la media del ping che ho avuto è stata 21,64 Il match col ping più basso è stato 17,7 e il ping più alto 51,36 La perdita dei pacchetti media 0,01 Il match più basso è stato con una perdita di pacchetti di 0 Mentre il più alto con 0,02 Il jitter in media è solo 0,05 Con un jitter più basso di 0 e un più alto di 0,18 E guardate qui Vi fa vedere esattamente tutte le partite che avete giocato Queste sono per esempio le partite che ho giocato io oggi Queste ultime 3 dovrebbero essere delle rival Se vedete come infatti è aleatorio Perché comunque dipende anche da quelli che sono le locazioni dei vostri avversari Oltre a quella dei server Per cui abbiamo 20 di ping, 35, 18 eccetera Queste partite qua invece sono tutti quanti best of 2 In particolare 1 e 2 che ho giocato Contro Denuzzo e contro un altro player italiano Che bene o male vedete che ho Denuzzo infatti il ping rimane costante Mentre con l'altro player ha oscillato un po' di più Vedete che vi segna anche quelle che sono le partite complete e le incomplete Ovvero i quit Vedete come il ping schizza ad esempio in questa partita disputata il 15 novembre alle 13.47 Quindi era una partita di weekend league con ping di 51 Con jitter a 0,05 Oppure guardate quest'altra partita sempre di WL Come il jitter era 0,18 che è stato il più alto registrato in tutta la settimana Quindi insomma io credo che per un certo punto di vista questo è uno strumento molto utile Per cercare di capire un po' come vanno le vostre partite E come varia anche la vostra connessione in base a quelle che sono le fasce orarie Anche per magari capire qual è il momento giusto per giocare la WL eccetera eccetera Però non è uno strumento affidabile perché risente di quelli che sono insomma valori molto estremi Quindi se c'è una partita tanto 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 negativa vi influenza un botto il punteggio totale Per andare a scovare poi in effetti qual è il nodo dal pettine dovete andare nel vostro match history Quindi raga rapido video update perché penso che questo tool possa esservi utile anche per curiosità Per testare i vostri score fatemi sapere nei commenti qual è il vostro punteggio Fatemi sapere se già conoscevate questo tool e l'avevate già usato Mi raccomando di lasciare un like e di iscrivervi al canale perché stiamo crescendo bene e mi fa piacere E nulla raga io vi aspetto ogni giorno in live sulla piattaforma Gola Vi lascio anche nella descrizione il link diretto per andare a fare questo test E nulla raga io vi saluto ciao ciao